Siamo a bordo del trenino WIPESERO EXPRESS e da qui che oggi il Comune ha lanciato le iniziative per questa stagione 2021. Candele sotto le stelle il 10 agosto, Rossini Opera Festival dal 9 al 22 agosto, San Pietrino, San Mestritt ogni martedì in piazzetta Toschimusca e poi il Burattini Opera Festival fino alla mezzanotte bianca dei bambini in programma al 4 luglio. È un calendario ricco di appuntamenti, ben 300, con 500 serate in programma, quello presentato dal Comune di Pesaro per la stagione estiva 2021. Il vice sindaco Daniele Vimini, accompagnato dall'assessore Emilia Della Dora, li ha passati in rassegna dal nuovo trenino turistico WIPESERO EXPRESS, vera novità dell'estate pesarese che accompagnerà cittadini e turisti ad esplorare la città. Da Viale della Repubblica passando per Viale Trieste, Baia Flaminia, Piazza del Popolo e Rocca Costanza fino a Viale Trento. Sarà questo il percorso del trenino che può contenere fino a 36 persone disponibili a Pesaro fino al 5 settembre. Dalle 17 alle 20 sarà per gruppi su prenotazione, dalle 20 e 30 alla mezzanotte invece partirà, per chi lo vorrà, ogni 30 minuti da Viale della Repubblica. Costerà 5 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini, iniziativa quella del trenino voluta fortemente dall'amministrazione comunale e dall'APA, associazione pesarese degli albergatori. Tra gli eventi, nella nuova brochure di Pesaro verso l'estate e oltre, viene riconfermata anche la fiera di San Nicola, uno degli appuntamenti più amati dai pesaresi con il lungomare che si colorerà di bancarelle, profumi e sapori. Il trenino non solo a trazione turistica ma anche in un trasporto alternativo integrato già dalle navette che abbiamo presentato proprio qui pochi giorni fa e anche la possibilità di muoversi con il trenino per arrivare tra i due porti e in Baia Flaminia. Quindi c'è un'alternativa all'auto per singoli o comitivi che organizzano magari cene in queste zone e crediamo che tra l'altro sia un'opportunità turistica in più perché molti turisti magari per la distanza non arrivano a scoprire la bellezza di Baia Flaminia e quando invece c'è tanto da vedere possa tornare a far respirare quel clima anche di festa responsabile ma che ha fatto innamorare tanti turisti di Pesaro e anche fatto tornare regolarmente a visitare la nostra città.